Una mamma deve badare a tutti in famiglia. Quando serve la sera, conto io le loro gocce di guttalax. Oggi mi sento meglio. Sette gocce di guttalax ieri sera. Vita sana e regolata e quando occorre, otto gocce di guttalax. La stitichezza è un problema di molti. Guttalax ha la dose giusta per ognuno. Sette, otto gocce per gli adulti o più gocce all'occorrenza. Guttalax è in odore e in sapore. Tutti lo possono prendere in famiglia, anche i bambini e le donne in gravidanza. Seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso.